Firenze sarà la protagonista di un grande evento dell'ONU per la sicurezza stradale. Ciò l'ha anticipato il sindaco Dario Nardella dopo un incontro con Jean Todd alla vigilia della grande festa in Piazza della Signoria per onorare la Ferrari. Mentre sale la febbre, quella buona per il Gran Premio di Formula 1, il numero 1000 per la Ferrari, con lo sguardo delle telecamere di tutto il mondo rivolto all'autodromo del Mugello, viene siglata un'importante intesa tra il Comune e Jean Todd, presidente della FIA, Federazione Internazionale dell'Automobile, tra i fautori della decisione di portare il Gran Premio di Formula 1 al Mugello, un evento unico nei 46 anni dall'inaugurazione del circuito. Si tratta di un progetto delle Nazioni Unite sulla sicurezza stradale. La cosa più bella che abbiamo condiviso proprio oggi con Jean Todd è l'adesione di Firenze al progetto delle Nazioni Unite sulla sicurezza stradale. È un tema al quale noi siamo molto legati, come sapete, molto sensibili con le nostre associazioni. Penso alla Fondazione Guarnieri, ai Borgogni, penso anche all'Associazione Duccio Dini. Insomma, sono tante le realtà della città che purtroppo, a causa di un dramma che ha colpito soprattutto i giovani, sono impegnate. Quindi metteremo tutta Firenze a disposizione, pensate, delle Nazioni Unite, con Jean Todd, delegato speciale per questo progetto che tornerà nei prossimi mesi a Firenze proprio per lavorare a questa attività. Dario Nardella, che in mattinata ha incontrato anche il presidente della Ferrari, John Elkan, che con la famiglia ha visitato i luoghi simbolo della città, uffizi compresi, si è detto emozionato, non solo per le ricadute economiche di prestigio che il Gran Premio sta dando a Firenze. Mi sento tornato bambino perché è un po' un sogno, la Ferrari credo che sia uno dei simboli in assoluto dell'italianità, vederla legata a Firenze è un messaggio straordinario che mette insieme la bellezza, la creatività, il talento e poi abbiamo un autodromo straordinario come quello del Mugello. Non è solo una spinta all'economia della nostra città, che ha bisogno ora più che mai di fiducia, ma è anche un bel lavoro di squadra. Il Made in Italy in assoluto, cultura, automobilismo, creatività, tutto insieme, tecnologia, innovazione per dimostrare al mondo intero che il Made in Italy è più forte che mai.